La storia di questa monaca è veramente molto particolare e vale la pena di essere ripercorsa in qualche modo, anche per capire perché poi fu accusata di eresia. Per 12 anni lei fu la badessa del convento di San Benedetto a Pisa e da tutti era considerata una santa, solo che l'inquisizione non era convinta, aveva dei dubbi su di lei e perciò la interrogò varie volte. Ora, visto e considerato però che nel monastero dove lei era badessa era consideratissima per evitare un rischio veramente di scisma di tutto il convento, decise semplicemente di trasferirla a San Gimignano. Nel convento di Santa Caterina a San Gimignano non è che l'inquisizione li dette requie, infatti tornò più di una volta a interrogarla, venne interrogata varie volte e dissero che sostennero appunto il tribunale che lei perseverava diabolicamente nella sua eresia, perché lei sosteneva in pratica di essere illuminata nelle sue decisioni e in quello che diceva direttamente da Dio. Per cui la santa inquisizione, perché lei non inquinasse altre persone del convento, la condannò a vivere perennemente chiusa in una cella, dove morì nel 1682. Siamo il 27 febbraio del 1688 e la prima domenica della quaresima e in Santa Croce il tribunale dell'inquisizione stabilisce questo. La monaca Francesca Fabbroni, monaca del monastero di San Benedetto a Pisa, morta da sei anni, è colpello di eresia, perciò il tribunale condanna la stessa alla pena del rogo. Si dà il caso però che la monaca fosse morta, come ho detto, sei anni prima. Allora, cosa pensano e fanno? Vengono tolte le ossa della monaca da terra, vengono portate a Firenze e lì dal bargello parte un carro parato di nero con un ritratto, un quadro della monaca, le sue ossa, e fa tutto il percorso che facevano i condannati a morte dal bargello al pratello della giustizia, dove il boia prende le ossa e il quadro della monaca e li brucia sul rogo. In effigie, perché la monaca ovviamente era morta da sei anni. Al suono della campana della giustizia, la salma della fabbrona fu portata al pratello delle forche fuor della porta alla croce, dove venne abbruciata e disperse le ceneri al vento. Grazie per la visione! Grazie a tutti!